Caro Simon, tu non mi conosci, ma mi sono trasferito ad Atlanta. Non vedevo l'ora di ricominciare. In una nuova scuola puoi essere chi vuoi. Io sono mia. Ce l'hai una ragazza oppure... No, ma non ho nessuna ragazza in Texas. Dall'autore di tuo Simon. Io sono confuso. C'è a chi piacciono i ragazzi? A chi le ragazze? A chi entrambi? Io non so che cosa mi piaccia. Sei sempre stato il più forte di noi. Sì, almeno di te non mi devo preoccupare. Trovare te stesso. Io ho paura di non riuscire a... A inserirmi qui. Ti farei degli amici. È un rischio da prendere. Ragazzi che baciano dei ragazzi. Questo non è più il mondo in cui siamo cresciuti. Quindi, Simon, per i miei 16 anni desidero capire cosa voglio. Tuo Victor. Love Victor. Serie originale star in esclusiva dal 23 febbraio su Disney+. allesa. Grazie per la visione!